Vieni, 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 guarda che ti do, guarda, guarda come bello, guarda, ma non ti siedi, mi siedi di te. Com'è? E buono. Vede questi pezzettini di orecchie? Eccolo qua, questi pezzettini di orecchie. Come ti sta bene il fiocchetto? un signorotto un signorotto mamma mia però è bellissimo il pelo quello è una pettinata però è bellissimo è lice e se voi non mi pettinate non mi posso pettinare da solo vero? allora lui ha circa tre anni dobbiamo solo trovare un nome rinominarlo vabbè se ci danno qualche suggerimento noi accettiamo un altro biscottino? dobbiamo provare? se non è finito potresti che devo aprire i più ah no è qui qua guarda qua mamma mia ha una quantità di pelo possiamo farci un maione ferma ciao te ne vai mi spiace ti sto riprendendo non c'è privacy questo è infatti è violazione della privacy provo a lanciarla non distante non troppo distante no ha detto che non la vuoi ha detto vai a prenderla tu non ha voglia mi hai fatto un primo piano non hai voglia di giocare oggi mi torna in box no si sta meglio qui c'è un po' d'erba eh un po' di coccole eh le coccole soprattutto eccolo le coccole poccoline mamma mia mamma mia quanta dolcezza che faccia con la bocca per quei dentini che escono è vero ce le ha un pochino limati ma guarda che belle zampe tutte macchiate le ho fatte vedere che faccia con la bocca